non risolviamo il problema di rinnovamento di Italia e questo è il problema lo dici dopo non volatemi perché non mi presenti come nel passato voglio ringraziare Roberto Giuliano e Donato Robilotto dell'invito a questo incontro non è la prima volta che partecipo a incontri dei socialisti di Donato e di Roberto e quindi anche in un momento delicato come questo credo che sia giusto e capisco anche le incazzature delle persone credo però che sia giusto non fare di tutto un erbo o un fascio e chi viene dalla tradizione socialista in qualche modo probabilmente si ricorderà il 92 in cui si è messo tutti sulla stessa stregua e noi dobbiamo stare attenti a questo perché chi mette tutti sulla stessa stregua normalmente fa il moralista ma poi nei propri comportamenti personali non è così morale credo che le questioni siano serie molto serie più serie del fatto di Fiorito ma che riguardano questo paese in generale non solo la politica riguardano le classi dirigenti di questo paese in generale certo la politica deve assumersi le responsabilità più grandi a chi le fa e chi è stato votato dai cittadini a maggiore ragione però io voglio ricordare solo un piccolo passaggio poi rispondo alla domanda del moderatore che ha avverto tranquillo però io penso che il tema sia più ampio e c'è anche un retroscena dietro a quello che sta avvenendo quando io ho iniziato a fare politica la prima volta che sono stato eletto in un consiglio circoscrizionale in dodicesima era il 1981 Roberto mi conosce perché eravamo dello stesso quartiere di Decima quartiere popolare di casa popolare stessa parrocchia stessa parrocchia non è che ce ne erano molte le parrocchie ce ne sono quelle sono stato eletto dal voto di quel quartiere chi faceva il consigliere circoscrizionale all'epoca prendeva di rimborso 500 mila lire l'anno uno non faceva politica per sistemarsi per trovare il posto di lavoro per fare carriera per rubare insomma faceva politica perché Roberto ne può essere testimone perché si occupava dei problemi della gente di quel quartiere in questo specifico come tanti altri di altri quartieri c'erano i partiti che facevano una selezione della classe dirigente uno non diventava assessore, ministro, consigliere regionale così all'improvviso senza aver fatto nessuna senza aver vissuto le sezioni nel caso della democrazia si ristrava la parrocchia il comitato dei quartieri altre cose altri movimenti altri amici comunque in altri momenti di attività nelle scuole nelle università nel movimento che c'era in quegli anni pur nelle difficoltà di quegli anni cioè c'era una motivazione di fare politica al servizio della gente dal 92 in poi dal 94 in poi quando si sono distrutti i partiti si è distrutto il meccanismo di selezione della classe dirigente c'è stato un cesarismo perché questo non lo dice nessuno da parte dei leader dei partiti tutti che ha determinato una selezione della classe dirigente al contrario al contrario ognuno sceglie quelli più fidati non sceglie i migliori non sceglie quelli che hanno il maggior rapporto col territorio e con la gente ma sceglie i più fidati vale per tutti anche per me e quindi poi ci sono anche le eccezioni però in generale si è rotta la piramide che c'era in quegli anni in cui i capi dei partiti avevano la necessità di mantenere un forte rapporto col territorio con le organizzazioni con il mondo sociale con il mondo del collateralismo che ogni partito aveva intorno a sé che riguardava il mondo del lavoro che riguardava il mondo delle imprese il mondo delle organizzazioni il territorio la società civile era strettamente legata in questo tipo di rapporto dal 94 in poi questo è stato rotto distrutto perché c'è stato un meccanismo one to one cioè io ognuno di noi ha referente al capo e basta non è referente non è l'intermedio di rapporto con il territorio dei leader nazionali o di quelli che sono all'interno del Parlamento io credo che questa sia la causa storica antropologica se vogliamo di quello che oggi stiamo che poi si sviluppa nelle vicende alla fiorito maniera si sviluppa nelle vicende che in qualche modo oggi leggiamo sulla cronaca ma c'è un'altra questione guardate che dietro a questo c'è una spinta neocentralista molto forte che in qualche modo guardate io ho fatto il parlamentare i fondi e i gruppi parlamentari ci sono non è che non ci sono e vengono utilizzati anche per fare le stesse cose che più o meno non fiorito assolutamente ma perché fanno che hanno fatto i gruppi i gruppi consigliari regionali no, quelli corretti nel senso che vengono utilizzati comunque per fare attività politica e compagnia non parlo di luci e di fiorito parlo di quello corretto quindi non è che soltanto nella regione Lazio c'è stato questo tipo di discorso il tema è che bisogna riformare complessivamente il sistema però questo sistema va riformato annullando le autonomie come purtroppo sta avvenendo oppure correggendo gli errori che sono stati fatti un altro errore profondo è quello del titolo quinto della Costituzione che ha creato un meccanismo di conflitto permanente tra lo Stato le regioni e i comuni sulla competenza sulle singole materie quando si crea la materia concorrente si crea un conflitto che assolutamente Donato se ne è occupato per molti anni che è un conflitto assolutamente che non desdive che ha creato questa anche non un lavoro e un collegamento organico tra i vari organi dello Stato sia a livello centrale che a livello locale ma ha creato invece delle singole isole che si crea un'immagine che si crea un'immagine